Benvenuti a tutti, torniamo a fare una chiacchierata tra il sottoscritto e il nostro Andrea, che ringrazio per essersi reso disponibile a venire a presenziare sul mio canale, a portarci la sua immensa saggezza, sapienza e conoscenza dell'universo tolkieniano, e ho pensato di torchiarlo su un tema che mi è sempre piaciuto molto, che mi interessa molto e che sarà anche uno dei capitoli del mio libro che è in prossima uscita, che uscirà a inizio settembre, che si intitola Alla scoperta della terra di mezzo, e cioè l'aspetto degli elfi. Perché parlare di questa cosa? Perché Andrea mi potrà dare ragione su questo, negli ultimi mesi, soprattutto da quando è venuta fuori una certa serie televisiva, l'aspetto degli elfi è stato pesantemente messo sotto attacco da molti spettatori, da molti critici, da molti amanti di Tolkien, che però non ritengono necessario soffermarsi su questo aspetto, sul quale invece si è soffermato lo stesso Tolkien, perché dobbiamo ricordare questa cosa. Nell'ultima Nature of Middle Earth c'è un capitolo intero che si chiama Capilli, e che parla dei capelli degli elfi. E noi sappiamo anche quanto è dibattuta la questione del colore dei capelli di Legolas. Era biondo o era scuro? Ci sono indizi che ci portano a pensare che potrebbe essere biondo come essere anche scuro. Ma gli elfi, in realtà, così come ce li ha descritti Tolkien, hanno delle caratteristiche fenotipiche, perché hanno diverse stirpi, che hanno le loro anche peculiarità fisiche, soprattutto a proposito dei loro capelli, del loro incarnato, dei loro occhi. E quindi perché parlarne? Beh, perché dico subito la mia. E perché l'ho inserito all'interno del mio libro, che indaga il rapporto tra il mondo primario e il mondo secondario. Perché anche attraverso la costruzione di questi personaggi, gli elfi, si realizza veramente la costruzione minuziosa del mondo secondario di Tolkien. Cioè, la credibilità della terra di mezzo passa anche attraverso queste cose. Cioè, le stirpi degli elfi devono essere cesellate nel minimo dettaglio, devono essere credibili, perché un lettore deve entrare in questo mondo e perdercisi, e credere a quello che sta leggendo. E quindi tutta questa tridimensionalità, tutta questa attenzione a creare una profondità, la narrazione, anche a livello di background e di costruzione di mondo, è importantissimo, proprio per questi legami che ci sono tra il nostro mondo e il mondo delle storie, il mondo delle fiabe, il mondo secondario che troviamo all'interno del Signore degli Anelli, del Silmarillion, della Hobbit. E poi, mi permetto anche di dire, che attraverso queste cose si esplica anche il ragionamento che Tolkien fa dal punto di vista filologico. Perché, dopo ci arriviamo, gli elfi hanno un certo aspetto, e ce l'hanno anche perché Tolkien ha ragionato filologicamente su questo aspetto. Cioè, Tolkien non parte mai da un'idea così e la butta a caso, ma ci ragiona proprio da filologo, perché lui era un filologo e per lui il linguaggio era inseparabile dal mito. Vi aggiungo anche che i personaggi descritti fisicamente da Tolkien sono pochi, però in alcuni casi, alcuni sono descritti bene. Con Andrea abbiamo parlato dei Númenoreani, per esempio, in una lunga chiacchierata, e anche in quel caso Tolkien è stato molto preciso nel descrivere il popolo degli uomini di Númenor. Ci sono casi in cui addirittura ci viene descritto un personaggio perfettamente come Tom Bombadil, che è il personaggio più misterioso in assoluto, e nel caso degli elfi Tolkien ha pensato bene di descriverceli anche fisicamente. E quindi adesso chiedo a Andrea cosa ne pensa a proposito di questo problema e cosa si può dire, soprattutto oggi, che si dice che in fondo gli elfi devono rispecchiare le categorie del mondo di oggi, perché siccome il mondo cambia, anche gli elfi cambiano, secondo la rappresentazione che noi vogliamo darci. Prego Andrea. Allora, prima di tutto buonasera a tutti quanti, ringrazio anch'io Paolo per aver accettato di ospitarmi sul suo canale, è sempre un piacere, e chiacchieriamo sempre di cose che per me sono interessantissime, bellissime. Allora, l'aspetto degli elfi sembra attualmente che sia un problema, infatti sono sorte svariate polemiche su come trasporre cinematograficamente l'aspetto di questa razza di personaggi e dell'ambientazione di Tolkien, perché all'interno del mondo che è un fittizio, ma comunque correlato al nostro, di Arda, è importante anche il loro aspetto, perché li contraddistingue, non solo la loro cultura, la loro storia, la loro natura, sia spirituale sia fisica, li caratterizza, ma anche il loro aspetto, fa parte dell'insieme, del quadro totale della natura elfica in Tolkien. Ma non solo, perché sappiamo che a partire principalmente da Tolkien, diciamo che lui è stato quello che ha dato il via, poi c'è stata una grande fioritura di autori di ambientazioni fantasy, e praticamente tutti descrivono popolazioni, o razze, o etnie, che non tutto ovviamente, però diverse non esistono nel mondo primario, sono completamente diverse, o aliene, concepite proprio dalla fantasia, e tutti si dedicano anche alla descrizione fenotipica, etnica, non solo culturale, storica, naturale e spirituale. Perché? Perché è intrinseca a un popolo, per rappresentare una razza, un popolo, un gruppo di esseri senzienti, anche l'aspetto fisico è importante, perché è connaturato a quello di una specie senziente. Non solo, in realtà, che se vogliamo descrivere anche fauna e flora, come ha fatto Tolkien per un bellissimo saggio di cui abbiamo già parlato su Númenor, anche lì c'è una descrizione della fauna e della flora, di tutti gli esseri viventi. Quindi, il fatto è che l'aspetto degli elfi, di cui adesso parleremo più nello specifico, delle varie etnie, perché non tutti gli elfi sono uguali, ovviamente. Ci sono diverse etnie, ci sono diverse sotto-etnie elfiche, e ognuno ha delle caratteristiche ben precise. Poi, ovviamente, sono più i punti di incontro che i punti di divisione. Tanto è vero che gli elfi molto spesso si uniscono tra popolazioni differenti della stessa razza elfica. Si uniscono per dare vita addirittura non solo a individui, ma a volte addirittura a popoli misti. Ci avvengono delle commistioni etniche, potremmo chiamarle, che sono molto importanti anche queste, perché daranno vita a popolazioni importanti fino alla fine. Infine, se andiamo a pensare anche solo al Signore degli Anelli, adesso anticipo un po' la questione delle varie, se posso, delle varie etnie, sotto-etnie elfiche, e tutti sanno che gli elfi di Lothlorien, i Gladrim, sono estremamente importanti ai fini della narrazione del Signore degli Anelli. E loro sono il frutto di una commistione etnica tra diverse etnie e culture anche elfiche. Quindi è importante, non è vero che chiunque dica, perché c'è qualcuno che lo dice, che in Tolkien non si parla di questi argomenti, che non vi è completamente descrizione dell'aspetto fenotipico ed etnico delle popolazioni, nel caso in cui parliamo stasera degli elfi. In realtà è connaturato a tutto il resto, al linguaggio, alla cultura, alla storia e alla natura. Quindi è importante. Poi, come vogliamo trasportare, e poi finisco così, andiamo avanti, come vogliamo trasporlo visivamente sui nostri schermi, quello è un altro paio di mani che si ricollega tutto al discorso della tanto vituperata e inesistente canonicità, fedeltà all'autore, modernizzazione e così via. Quello è un problema molto più grande. Anche perché, secondo me, il problema è che è vero che magari tutte queste informazioni che noi abbiamo non sono riscontrabili nei testi principali che tutti noi conosciamo, Il Signore degli Anelli, Lo Hobbit, anche se in parte ci sono, ma le troviamo nel Silmarillion, nella History, e tutti dicono, ma non sono opere canoniche, Tolkien le scriveva per sé, non per la narrazione. È vero, le scriveva per sé, però comunque erano elementi del suo mondo e se oggi noi le conosciamo, beh, ben venga, perché riusciamo a capire veramente come lui intendeva le stilpi di cui andava a parlare. E ovviamente i riflessi di tutto questo li troviamo anche, poi ovviamente, all'interno del Signore degli Anelli, dell'Hobbit. Anche l'Hobbit, paradossalmente, non dovrebbe avere queste problematiche perché è nata come storia all'esterno del Corpus, del Legendarium, in realtà poi c'ha dentro gli elfi dei boschi che sono descritti perfettamente come gli elfi che non sono andati dall'altra parte del mare e che quindi hanno delle caratteristiche umane, anche fisiche, diverse rispetto a quelle dei loro cugini, chiamiamoli, che invece sono stati a Valinor, per esempio. E quindi, giustamente, come dicevi tu, ci sono tutte queste stratificazioni di vario tipo. Perché poi, ecco, parliamo un po' di questi personaggi che noi sappiamo delle tre macro razze, macro etnie, chiamiamole macro stirpi, che sono andate a Valinor e quindi in Oldor, i Vanyar, i Teleri, che sono già diversi tra di loro. E poi ci sono gli elfi che rimangono nella Terra di Mezzo, nel Beleriand, ci sono gli Avari e poi ci sono i Sindari. I Sindari sono un popolo incredibile, sono i più complessi di tutti. e quindi, prima di lasciarti la parola, vorrei anche sottolineare un aspetto che secondo me è fondamentale e che non dovremmo mai dimenticare, giusto per citare uno dei miei libri preferiti che cito sempre, cioè Schegge di Luci di Berlin Flieger, com'è che si differenziano le stirpi degli elfi in Tolkien, ma guardate, non tanto per gli aspetti etnici, fenotipici, che sono una conseguenza di tutto questo. Cioè, gli elfi in Tolkien si distinguono tra di loro in base alle diverse reazioni che hanno nei confronti degli stimoli della luce. Perché abbiamo degli elfi che si precipitano a Valinor per primi, i Vanier, sono gli elfi della luce non a caso, che sono quelli biondi, i più chiari di tutti, sono i cocchi di Mangue, perché sono quelli che proprio vivono per stare lì. E poi ci sono i Noldor che invece sono un po' più ombrosi, hanno meno questo fascino per la luce, ma hanno il fascino invece per le tenebre e andare nell'oscurità della terra di mezzo, avere i loro regni. Poi ci sono i Teleri che sono talmente combattuti che addirittura si perdono in parte e non ci vanno, solo una parte ci va e se ci arriva si ferma prima, si ferma nell'isola prima. E poi ci sono i Sindar che sono un mix di tutte queste persone. E poi gli Avari che invece sono quegli scugli, elfi scuri, ma perché sono scuri? Probabilmente saranno anche scuri di pelle, ma il problema è che sono scuri perché non sono andati a Valinor, perché non hanno reagito come gli altri alle suggestioni della luce. E voglio ricordare che Tolkien ha i punti di vista e chi è che descrive la storia che troviamo all'interno del Silmarilio? Sono tradizioni che vengono da Valinor o che vengono dai Noldor, sono loro che le hanno raccontate e quindi sono loro che esprimono il loro punto di vista sugli altri elfi, quelli che sono rimasti nella terra di mezzo, gli avari, che sono sconosciuti, chissà che fine hanno fatto, non lo sappiamo, perché neanche loro lo sapevano e li giudicano. La Flieger in un capitolo dice che già la differenza tra il popolo delle tenebre e il popolo della luce, i calaquendi, i moriquendi, indica proprio un giudizio anche di merito, di valore di quegli elfi, perché c'è un punto di vista che non dovremo mai dimenticarlo, è quello di quelli che invece stavano dalla parte di là, perché ricordiamo che gli elfi sono fatti per stare dalla parte di là, ma ci sono degli elfi che liberamente decidono di non andarci e queste sono tutte sfumature che noi dovremmo ricordare quando parliamo di un argomento del genere, senza proprio buttarlo in vacca, diciamolo chiaramente, cercando di fare un calco della nostra realtà, anche perché gli elfi non sono umani, diciamo la verità. Quindi, perché andare a sminuire una creazione del genere che è così potente anche dal punto di vista narrativo per cercare di fare una specie di apologia della nostra realtà? Andrea, lascio a te tutta questa discussione. Meglio non rispondere a questa domanda. Allora, riguardo agli elfi, effettivamente è un quadro abbastanza complesso, ma questa sera vogliamo focalizzarci, se ho ben capito, soprattutto sull'aspetto esteriore, quello fenotipico, etnico. È vero, ci sono tre stirpi, come la chiamate Paolo, tre macroetnie, che diventano i calaquendi di Valinor, terreame e beato, quindi esposti alla luce divina dei due grandi alberi e dei Valar stessi, le potenze del mondo. Questo li cambia proprio non solo spiritualmente, ma anche in un certo senso fisicamente, non proprio dall'aspetto fenotipico, però più dal punto di vista della forza e della resistenza, che infatti quando poi in Oldor torneranno nella Terra di Mezzo a causa del loro esilio, nei vari racconti, come nel racconto dei figli di Urin, dove viene narrata la vicenda dell'eroe tragico Turin-Turambar, viene detto che in Oldor erano i massimi esponenti della razza elfica nella Terra di Mezzo e dato che erano degli elfi luminosi, dei calaquendi, del reame immortale, erano più forti e resistenti di tutti gli altri elfi. E quindi fa ancora più specie, apriamo una parentese che chiudiamo subito, il fatto che Turin venisse scambiato proprio esteriormente, fenotipicamente e per la forza e la resistenza proprio per un alto elfo di Valinor, per un Noldor, perché oltre a tutto a tutte le sue altre caratteristiche fisiche, aveva la chioma scura come quella dei Noldor, che se ci ricolleghiamo alle parole di Paolo prima, i Noldor sono praticamente i classici tenebrosi, non solo per aspetto, ma anche per temperamento sanguigno e ombroso, cosa che veniva evidenziata, è stata evidenziata soprattutto dai Sindar, lo sappiamo, dai testi della History of Middle Earth, perché gli elfi non sono umani, però hanno questa tendenza molto umana anche loro al razzismo all'interno delle varie macro-etnie e sotto-etnie elfiche, perché spesso e volentieri i Noldor sono tanto razzisti, ancora prima del loro esilio, tanto è vero che i Teleri, una delle tre grandi etnie di Valinor, non si autodefinivano i Teleri, loro si chiamavano Sindar, tutte queste informazioni tra parentesi ci vengono fornite in una parte molto importante secondo me della History of Middle Earth che si intitola Quendi and Elder, Quendi e Elder, che deve essere ancora pubblicata, perché sapete che adesso si sta uscendo a tappe la History of Middle Earth, meno male per fortuna, in italiano, e solo che per questo, per Quendi e Elder dovremo aspettare ancora un po', perché si trova nell'undicesimo volume della History of Middle Earth, ovvero sia The War of the Jewels, la guerra dei gioielli, quindi è praticamente il penultimo, perché i volumi sono 12 più 1, diciamo, quindi... E sono anche più belli, Morgoth's Ring, War of the Jewels e People of Middle Earth, sono, credo, secondo me, più belli. E' vero, sono più belli, anche se i prossimi che stanno per arrivare sono più che l'ambarcante, che è sempre bello, l'ambarcante, che è il prossimo, che è The Shape, anzi, la forma della terra di mezzo, diciamo i titoli in italiano. The Shaping of Middle Earth. The Shaping of Middle Earth è bello, eh, io la consiglio tutta la History of Middle Earth, perché quando la lessi la prima volta anni fa, diceva, che bella, oh, finalmente, delle informazioni da tutto tondo sull'ambientazione. A me, ti dirò, Paolo, mi interessa proprio tanto, tanto, cioè, mi interessa, l'ho già letta in inglese, ovviamente, però voglio proprio leggere in italiano The Lost Road, La Strada Perduta, gli altri scritti, perché? Perché ci sono i capitoli numeroreani e quelli sono belli. L'avortito romanzo sulla, sulla, ma, sul mito di Atlantide rivisto attraverso i ricordi del padre, del figlio, che vedono un padre e un figlio, o che vedono un padre e un figlio, nel sogno, fino ad arrivare all'isola di Númenor, bellissimo. Racconto che poi si protrae attraverso questo scamotaggio della reincarnazione dei personaggi nel corso delle ere, arrivando anche a parlare dei Longobardi, per esempio, quindi, è interessante, ragazzi, è interessante. Però, ritornando agli elfi, i Teleri, i poverini, loro si autodefinivano Lindar, i cantori, dell'Erik, gli ha dato il nome, i Noldor, perché Noldor, ricordiamolo, erano i narratori, gli storici, coloro che detenevano le cronache, gli annali, della razza elfica, erano principalmente loro, anzi, sembra che fu un Noldor, Rumil, a inventare la scrittura per la prima volta nel mondo. Perfezionata poi da Feanor, un altro dei Noldor. Esatto, quindi, se la cantavano e se la suonavano come volevano nei loro scritti e i Teleri, poverini, vennero definiti i Teleri, ovvero, si è, i ritardatari, quelli che arrivano dopo e questo veniva, perché? Perché sono arrivati per ultimi e non tutti a Valinor e in Noldor, questo lo vedevano in luce un po' negativa, perché, ammettiamolo, erano un po' razzistelli in Noldor. che nei racconti perduti erano i solo simpi, i pifferai della costa, bellissimo. Era un nome un po' più dignitoso di Teleri, poverini, chiamarli Teleri non gli fa tanto onore, però, dall'altra parte, abbiamo i Vanier, gli Elfi luminosi, anche questo nome attribuito dai Noldor ai Vanier, perché i Vanier avevano un altro nome che significava i capi, anche questo molto umile, i capi dei capi, gli inguion qualcosa, quindi i Vanier stanno lì sulle loro cime elevatissime, però è meglio non toccarli e i Noldor li ammiravano e in realtà erano anche un po' gelosi dei Vanier, li invidiavano un pochino e qui torniamo all'aspetto fenotipico che è il focus di questa nostra serata al fatto che i Vanier avevano principalmente i capelli biondi, apro l'ennesima parentesi, non è vero che Tolkien ci dà delle descrizioni fisse, granitiche, monolitiche, in questo caso per l'aspetto fisico, l'etnia e il fenotipo, no, lui dice, andate a controllare, dice sempre o al 99% delle volte in genere quasi tutti più o meno non dice mai tutti assolutamente erano d'aspetto così, dice in genere il popolo era fatto così, l'aspetto era così, sui Vanier cosa dice? Che in genere i Vanier erano biondi, anche non esistessero Vanier mori per dire, o di qualche altro colore di capelli, un po' come in Oldor, in Oldor in genere erano scuri di capelli, poi non potevano esserci a qualche raro caso qualcuno che aveva una chioma di colore differente, vedersi per esempio Matan, il fabbro e la sua famosa chioma e barba color bruno-rossiccio che fece tanto scalpore tra in Oldor tanto è vero che viene rimarcata, però ritornando ai Vanier loro avevano generalmente questi bei capelli biondi, che era il padre della moglie di Feanor di Feanor di Nerdanel che poi i suoi figli esattamente come i figli hanno i capelli rossi e quindi Nedros e i gemelli Amrod e Amras e quindi in Oldor invidiavano i capelli dorati dei Vanier biondi perché li consideravano belli esteticamente secondo loro criteri di bellezza estetica quindi avevano anche una sorta di complesso di inferiorità perché ci viene detto che questo accostamento fa anche il paio col fatto che in Oldor amavano l'oro amavano l'oro e si rivestivano di oro amavano i tesori creavano le gemme le gemme ma soprattutto l'oro tanto è vero che nella Nature nei varie informazioni analistiche ci viene riportato che quando in Oldor vanno in esilio nella Terra di Mezzo sono stracarichi d'oro sono il popolo dell'oro è solo che avrebbero voluto avere anche i capelli d'oro ma non ce li avevano la stragrande maggioranza di loro quindi c'è già una differenza d'aspetto fenotipica il Vania medio è biondo il Noldo medio è moro o comunque scuro di capelli non proprio moro moro perché in realtà la nerezza la chioma veramente nera corvina anche quella era molto rara viene attribuita per esempio a Finue e a suo figlio Feanor e alla loro stirpe Feanor viene descritto con i capelli nero corvino proprio perché in generale si avevano i capelli scuri in Oldor ma non neri erano scuri i Teleri i Lindar diamogli questo contentino poverini come erano i Lindar i Lindar come tutte le altre etnie a parte i Vaniar tutte le altre etnie elfiche sotto etnie eccetera ci viene detto proprio in quelli ed Eldar che erano generalmente tutti scuri di capelli i Vaniar avevano questa tendenza ad essere chiari di capelli quindi anche questo è interessante da notare perché nelle varie trasposizioni cinematografiche per esempio andiamo a vedere anche i film di Peter Jackson quanti elfiche troviamo che sono biondi o rossici praticamente questo è una differenza proprio con i testi poi che sia una differenza minima non poi così importante per vari altri motivi ovviamente all'epoca avendo uscita la trilogia di Jackson non erano ancora usciti altri testi non c'erano studi più approfonditi e poi un particolare che non è stato coinvolto da varie motivazioni ideologiche eccetera hanno detto ma sì facciamo i capelli un po' biondi un po' scuri un po' così e via la finella era scuro di capelli sua figlia era scura di capelli hanno fatto Aldi e gli altri biondi perché venivano da Lothlorien ci sta in fondo ma infatti nella narrazione del Signore degli Anelli Aldir viene infatti molti potrebbero venire in dubbio ma come nel romanzo Signore degli Anelli Aldir viene descritto biondo ma come Trantwil nello Hobbit viene descritto biondo anche nelle appendici del Signore degli Anelli Re Amroth di Lothlorien ed è scritto biondo questi non sono Vanjar perché ci sono tutti questi biondi e lì uno ci può dedurre può specularci sopra legittimamente e vedere che è plausibilissimo non solo come abbiamo ricordato prima il fatto che non era una regola fissa che tutti erano così punto e stop ma c'erano anche delle unioni multietniche tra vari clan fin dalle origini da cui vienen dalla nascita degli Elfi e sempre nella Nature of Middle Earth che è uscita recentemente qualche annetto un paio di annetti fa ma comunque ha svelato ha risolto molti dubbi si viene a sapere che all'alba della storia degli Elfi a cui vienen quando avveniva un incrocio tra due esponenti di clan diversi all'epoca c'erano i tre clan che poi divennero queste tre etnie queste tre stirpi elfiche cosa succedeva l'elfa femmina veniva adottata nel clan dello sposo maschio quindi diveniva formalmente di quell'etnia lì quindi è facile immaginare un elfa all'epoca erano i Miniar che sarebbero gli antenati dei Vanyar quindi comunque erano già biondi quello non ci piove che è andata in sposa ha deciso di sposarsi con un membro di uno degli altri due clan che sarebbero gli antenati dei Noldor e poi gli altri gli ultimi in Eliar sono gli antenati di un po' di tutti gli altri elfi in realtà della terra di mezzo i suoi discendenti eventualmente biondi sarebbero però rimasti in quelle altre etnie e non Vanyar perché funzionava così culturalmente per i Quendi per gli elfi e così via cosa che si tramandò anche tra i Noldor parlando sempre di Chiome di Capelli la figlia di Turgon il re di Gondolin era Idril Idril era bionda perché perché sua madre era del popolo dei Vanyar ma lei è una principessa dei Noldor tanto che va in esilio insieme a tutti gli altri Noldor anche Galadriel Galadriel e i suoi fratelli la stirpe che sono della stirpe di Finarfin che è biondo eccetera ma sono Noldor sono Noldor tanto è vero che c'è quel bel passo del film Arillion dove i figli di Feanor fanno la solita magra figura che fanno i figli di Feanor poveracci che non si contengono e dicono ma chi ha autorizzato questi figli di Finarfin ad andare a parlamentare con Tingle con questo elfo scuro nelle sue grotte cioè va bene tutto va bene che però devono ricordarsi che sono nobili principi di Noldor sebbene la loro madre sia di un'altra schiatta più o meno dovrebbe essere così se vi ricordo il bello è che abbiamo i tre fratelli Feanor Fingolfing e Finarfin che sono diversi fisicamente ma sono figli di diverse madri allora Feanor ha i capelli scuri come Fingolfing però Fingolfing è figlio di un'altra madre e Finarfin che è suo fratello perché è figlio della stessa madre però è biondo e quindi anche qui si vede come appunto ci siano questi crossover tra elfi e stirpi e vengono fuori poi dei figli che non è che siano automaticamente o biondi o scuri diciamo che sono delle linee guida generali sì fin dalle origini soprattutto i protagonisti che fanno parte delle casate nobili dei sovrani delle varie stirpi sono multietnici cioè sono frutto di commissioni multietniche perfino come dici giustamente tu Paolo prendiamo il Fingolfing della situazione che sembra la quintessenza del noldo in realtà è solo un mezzo sangue solo tra virgolette non è un noldo al cento per cento al cinquanta per cento quindi ritornando all'aspetto questa era la differenza dal punto di vista delle chiome perché iniziamo con le chiome perché le chiome ci vengono descritte da parte degli elfi come molto importanti soprattutto per i noldor che l'abbiamo già detto sono i soliti autori dei vari testi all'interno della finzione dell'ambientazione di Tolkien che forniscono tutte queste informazioni sui popoli sulle culture e così via per loro è estremamente importante il colore e anche la lunghezza l'aspetto della chioma perché era forse l'elemento principale dell'aspetto fisico di un elfo di una persona pensiamo ai capelli di Galadriel quanto importanti sono nell'economia del racconto nei racconti incompiuti sappiamo quanto quanto Feanor avesse tentato di chiedere per tre volte i capelli di Galadriel è verissimo sono importantissimi anche nel la volevo chiamare mitologia ma in realtà è storia per gli elfi è storia vediamo questi esempi i capelli perché poi i capelli di Galadriel si dice ispirarono Feanor a catturare la luce degli alberi quindi alla creazione di Silmaril e Silmaril lo sappiamo furono il fulcro che diede origine a tutto il resto a tutta la storia conseguente la chioma è importante infatti gli occhi sono messi paradossalmente almeno per quanto riguarda magari noi dal nostro punto di vista molto in secondo piano le descrizioni del colore soprattutto degli occhi sono molto più scarne rispetto alle descrizioni profuse del colore della lunghezza della bellezza della chioma dei vari personaggi elfici in genere sappiamo che in Oldor almeno avevano gli occhi grigi vengono descritti con gli occhi grigi cioè nonostante Meglin viene descritto con gli occhi scuri può darsi che li avesse ereditati dal padre però nella history anche Miriel la madre di Feanor e la prima sposa di Finwe ha gli occhi scuri e quindi gli occhi scuri marroni sono connaturati all'etnia dei Noldor insieme agli occhi grigi anche questo possiamo solo specularlo sembrerebbe di sì e quindi anche lì fare sempre gli elfi con gli occhi chiari potrebbe non essere poi così corretto o meglio ribaltiamo la cosa potrebbe essere legittimo un elfo con gli occhi marroni anche se in realtà me lo aspetto da un elfo che sta nella terra di mezzo perché sai che c'è il termine che c'è nella history dei Noldor che quando arrivano i Sindar li chiamano proprio con un termine specifico in elfico occhi di fiamma e questo è una cosa che a me fa uscire di testa cioè è un piccolo particolare in una nota perché non è che venga detto all'interno di chissà quale narrazione tra le note viene detto questo cioè i Sindar chiamano i Noldor così perché li vedono diversi perché questi sono stati a Valinor hanno visto la luce degli alberi e ce l'hanno impressa negli occhi e quindi hanno un termine che dice proprio occhi fiammeggianti dobbiamo capire la differenza tra queste due popolazioni che quando entrano a contatto sono elfi tutte e due magari erano molto simili però queste altre hanno gli occhi che proprio hanno la luce dentro tanto che Peter Jackson nel film non so quanto consapevole però ha fatto gli occhi di Galadel con dentro tutte quelle luci che girano con quegli artifici anche di scena che danno l'idea di quanto importanti siano questi occhi dei Noldor di chi ha visto la luce degli alberi perché la differenza è tutta qui cioè i Noldor come hai detto tu sono dei super elfi anche dal punto di vista fisico ma hanno anche delle caratteristiche che dicono sono stati a Valinor tanto che si parla anche della luce di Amman cioè sembra quasi che i Noldor emettano luce perché proprio vengono da lì perché sono stati immersi in questa luce che gli altri elfi che invece sono stati nelle tenebre hanno preferito la luce delle stelle non hanno visto e questi sono i piccoli particolari che fanno vedere quanto sono quanto è attento Tolkien a realizzare proprio queste sfumature le caratteristiche delle stirpi dei popoli che si è inventato io le trovo cose fantastiche poi invece siamo parlato anche dei Sindar cioè i Sindar sono un popolo che secondo me è fantastico sono una parte dei Teleri che non è andata da di là del mare lo stesso re Tingle è uno dei tre elfi delle iniziali che non è andato di là perché ha incontrato Melian si è innamorato e ha fatto casa lì nel Beleriand e il bello è che già lui nel suo nome dà questa ambiguità nei rapporti nei confronti della luce perché il nome originale quello di Elue Singollo vuol dire persona della luce quindi elfo luminoso manto grigio quindi lui è un elfo che è stato a Valinor perché ha visto gli alberi ha visto la luce degli alberi è tornato indietro per prendere il suo popolo non è più tornato indietro perché è rimasto con Melian e quindi ha preferito la luce di Melian alla luce degli alberi e ha offuscato questa luce e lui stesso si è offuscato cioè nel nome lui possiede già questa caratteristica della luce coperta e aspetta perché dopo cambia nome perché poi non parla più in Quenia ma parla in Sindarin e il suo nome diventa quello di Elu Tingol quindi anche nel nome cambia vuol dire la stessa cosa ma ancora una volta contiene al suo interno questa questa caratteristica di una luce offuscata da qualcos'altro che poi è alla base anche del suo comportamento perché Tingol farà proprio questo cioè lui abbandonerà la luce perché sarà minato da tutta una serie di cose che lo porteranno a essere avido a volere il Silmaril a litigare con i nani farà un sacco di cose e da tutto questo è prefigurato nel suo nome e lui diventa re questa è un'altra cosa che mi fa impazzire diventa re di un popolo che sono gli elfi come vengono chiamati non sono luminosi non sono scuri ma sono una metà no? sì sì esatto sono gli elfi grigi gli elfi perché? perché sono un mix di cose non sono pienamente avari non sono rimasti nella terra di mezzo ma non sono neanche come in Oldor i Vanier perché non ci sono arrivati sono a metà strada hanno subito la fascinazione della luce si sono fermati e hanno come regina uno che è stato a Valinor ma che ha detto di no per tornare e che hanno come regina Melian che è una maia che costruisce il suo regno e la sua reggia sulla base delle sue visioni di Valinor quindi è già una mediazione della luce di Valinor attraverso Melian che crea una cosa nuova e ovviamente meno luminosa di Valinor e tutto questo è presente all'interno di questo popolo incredibile degli elfi grigi che sono sono pazzeschi da questo punto di vista e poi è Tingle che paradossalmente vieta il Quenia cioè vieta la lingua che si parla a Valinor per parlare il Sindarin che è completamente diverso e ancora una volta qua però e dopo rilascio la parola a Andrea la cosa che è bellissima è che Tolkien non ci viene a dire ah che disgraziato ha cambiato la lingua ed è giusto che paghi è come quelli che vietano la messa in latino ed è giusto che paghino perché ha vietato la lingua sacrale non è vero cioè Tolkien ama le lingue e quindi ama il Quenia e il Sindarin nella loro specificità e anche nel modo diverso che hanno i parlanti di porsi in relazione alle altre persone al mondo perché ogni lingua esprime diverse sensibilità e diversi modi di vedere le cose ricordiamo ancora i Calaquendi i Moriquendi che vengono chiamati così in Quenia all'inizio della storia per giudicare quelli che non sono andati di là poi sono gli stessi che cascano nel peccato originale degli elfi e tornano indietro quindi è molto complesso il mondo di Tolkien cioè c'è una stratificazione tale che non si può dire chi ha ragione ovviamente tutti sbagliano e le lingue riportano tutto questo segno tutto quello che ho detto insomma è il segno di quanto attento Tolkien è anche nella nella precisione filologica nella creazione di queste cose anche nell'indicazione degli occhi degli elfi ecco il colore del fuoco che c'è negli occhi degli elfi e non è un caso che Galadriel abbia questo fuoco negli occhi allora io sai quando nella serie mi sono sentito dire da Elendil a Galadriel quando guardo i tuoi occhi mi vengono in mente i miei figli adolescenti e tutta la loro esuberanza mi sono cascate le braccia perché uno che si guarda gli occhi di Galadriel credo che tutto possa pensare fuori fuori dei figli ecco semplicemente questo ma 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 ritornando a quello che stavi dicendo giustamente la precisione filologica di Tolkien notiamo infatti si interseca con la descrizione esteriore etnica fenotipica in questo caso degli elfi perché stiamo parlando degli elfi ma anche degli altri popoli e degli altri personaggi come ricordavi tu i Noldor vengono definiti dai Sindar dagli occhi fiammeggianti perché viene dato risalto ai loro occhi non solo perché evidentemente facevano scalpore perché erano luminosi dalla luce di Validore ma perché sempre in Quendi e Nelder i Sindar ci vengono descritti fenotipicamente praticamente come identici ai Noldor hanno anche loro i capelli scuri anche loro hanno la pelle chiara come Noldor e come tutti gli altri elfi anche loro sono alti anche loro sono di costituzione atletica robusta e infatti nei vari racconti grandi capitani dei Sindar degli elfi grigi come Beleg e Mablung vengono spesso e volentieri descritti dalla corporatura possente atletica forte non ovviamente degli Sparzenegger però comunque ben piantati ecco tanto è vero che Mablung ha un bellissimo titolo soprannome come vuole che io ho sempre amato alla follia dalla prima volta che l'ho lessi ovvero dalla mano pesante e lì io da allora mi sono sempre immaginato non so che non c'entra assolutamente niente esteriormente interiormente non lo so però spiritualmente esteriormente per me Mablung è il Bud Spencer della terra di mezzo io me lo immagino per me è così e voglio sentire storia per me Mablung è dalla mano pesante Paolo è dalla mano pesante è un personaggio complesso è tormentato Mablung e quando fallisce si macera nel dolore ho sbagliato ho fallito bellissimo come Bud Spencer quindi non solo i Cinder ma anche tutti gli altri elfi del Beleriand e della terra di mezzo erano generalmente di questo aspetto perché sì c'è una differenza tra Eldar e Avari ok ma è più che altro una differenza culturale se parliamo degli elfi della terra di mezzo se poi ci mettiamo anche gli Eldar di Valinor lì le cose un po' cambiano perché lì c'è effettivamente una differenza anche etnica anche possiamo usare dire razziale stiamo parlando di elfi non di uomini quindi possiamo dire anche razziale in generale gli elfi della terra di mezzo fanno parte di tutti dello stesso aplotipo usiamo della terminologia da genetisti quindi generalmente hanno le stesse caratteristiche anche fenotipiche etniche esteriori poi che ci siano degli elfi biondi differenti l'abbiamo detto sono le varie eccezioni e ci può anche stare date anche dalle commistioni tanto è vero che se andiamo a riprendere la nature of middle earth ci sono degli interessantissimi passi che parlano del conciliabolo degli elfi a cui viene mentre in contemporanea stava avvenendo la guerra delle potenze i valar stavano assaltando un turno per dargliene un bel po' a melkor e liberare gli elfi dalla sua oppressione dalla sua oppressione asfissiante cosa fanno gli elfi si riuniscono tutto il popolo degli elfi perché all'epoca era ancora un po' delimitato non erano poi così anziani come popolo quindi erano tutti riuniti nei quendi per decidere se andare a valinor oppure no se accettare l'invito dei valar oppure no in breve cosa succede che una parte decide di andare a valinor e diventano gli eldar il popolo delle stelle e altri diventano gli avari i riluttanti anche questi gli avari perché vengono chiamati i riluttanti perché si rifiutano l'invito dei valar quindi sono i riluttanti i ricusatori quelli che dicono no però chi gliel'ha dato questo nome i noldor perché i noldor vedevano tutto dal loro punto di vista e quindi fanno la storia come vogliono loro la descrivono dal loro punto di vista la nature infatti veniamo a sapere che gli avari almeno in origine non si autodefinivano ovviamente gli avari i riluttanti ma gli anziani perché perché ci viene detto che i membri più anziani della razza elfica rifiutarono in toto di andare a Valinor compresi i più antichi dei antenati dei Vanyar quindi tra gli avari troviamo anche elfi biondi almeno alle origini troviamo elfi chiari come i Vanyar che erano elfi chiari perché decisero di di rifiutare l'invito tra cui Imin il padre degli elfi il primo elfo e antenato diretto di Ingue e della casata reale dei Vanyar e quindi anche di quella dei Noldor e quindi poi anche dei discendenti quando si incroceranno con quella dei Teleri e Imin il biondo Imin e la sua sposa rifiuteranno l'invito insieme agli altri padri e madri degli elfi e se ne andranno con gli avari poi che fine facciano non si sa diciamo solo che poi in seguito si dividono in sei tribù gli avari però notiamo anche che ci sono dei biondi tra loro i primi i Vanyar se ne vanno via con gli avari rifiutano non tutti i Vanyar come fino a fino a quando non venne pubblicata la Nature of Middle Earth non si sapeva si pensava che i Vanyar Toto avessero deciso boom andiamo tutti a Valinor e quindi anche spiritualmente fossero propensi al cento per cento istintivamente quasi potremmo dire alla luce e in realtà si scopre che non è vero quindi anche i biondi biondissimi elfi rifiutarono la luce di Valinor e questo è un particolare interessante perché va a scardinare un po' quello accostamento del chiaro uguale luce di Valinor uguale occidente invece scuro uguale est uguale rifiuto del divino e del bene va un po' a scardinare questa impostazione beh gli stessi Noldor fanno questa cosa qui dicono dicono di tutti che solo loro sono quelli bravi e dopo danno i nomi a tutti gli altri cioè i Noldor sono i primi che rifiutano la luce di Valinor tanto è vero e vanno nelle tenebre della terra di mezzo tanto che quando ci arrivano non c'è ancora il sole e quando arrivano si risvegliano gli uomini e sorge il sole ma loro arrivano con la luna e quindi è bellissima questa dinamica del rapporto degli elfi con la luce perché in fondo gli elfi che sono fatti per la luce rinunciano alla luce gran parte degli elfi in Oldor rinunciano alla luce c'è una parte dei Teleri che rinuncia gli Avari rinunciano una parte dei Vanyar che si è saputo che anche loro dicono di no cioè gli elfi vengono creati per stare nel continente di Aman con i Valar ma c'è una grossa parte che dice di no e poi una grossa parte che se ne va e va nelle tenebre e volge le spalle alla luce e incredibilmente si scontra invece con gli uomini cioè si scontra trova sul suo cammino gli uomini che invece vengono dalle tenebre e vorrebbero arrivare alla luce dei Valenor ma non ci possono arrivare perché così è stato stabilito e quindi è bellissima questa doppia questa doppia direzione che si interseca e poi genera tutta la narrativa che noi conosciamo secondo me svilire tutto sulla base del nostro mondo è proprio fare a pezzi tutta questa costruzione luminosa che ha pensato Tolkien vuol dire non averne coscienza non prenderla non averne comprensione non vedere esattamente quello che è ma assimilarlo interiormente e proiettare poi quello che siamo su qualcosa che in realtà dovrebbe essere ok è ispirato dal mondo primario ma sta lì è il mondo secondario è un'altra cosa esattamente riguardo a Enoldor giustamente mica solo loro erano razzistelli quando ci saranno i grandi contrasti tra Enoldor e Sindar sempre dalla Istro Middle Earth e Quanti Delta veniamo a sapere che i Sindar dicevano per denigrare Inoldor che in cuor loro loro erano avari perché perché alla fine hai visto dove sono tornati nella terra di mezzo non volevano accettare davvero l'invito dei Valar e questo poi ci sono le varie meschinità e contrapposizioni anche tra gli elevati elfi vedete un po' e quindi ritornando alle chiome come diceva prima Paolo si parlava del buon manto grigio di Tingle che già la la sua chioma lunga chioma argentata grigio argentato che gli diede il nome è praticamente la Tolkien se fosse qui mi sentisse mi picchierebbe è la rappresentazione l'allegoria del fatto che lui si trova a metà strada si trova nel crepuscolo tra la luce e l'ombra decide di rifiutare la luce ma non è neanche nell'ombra più oscura si trova a metà strada e la sua chioma argentata grigio argentata sembra essere tipica della sua famiglia tanto è vero che Olwe ci viene descritto nel capitolo Air capelli della Nature of Middle Earth come dalla lunga chioma grigio palescente bianca diciamo così e anche Kirdan il carpentiere imparentato in modo scuro con la stirpe reale dei Sindar degli alfi grigi ha i capelli e la barba grigi e così via anche Celeborn ci viene descritto con i capelli argittati e anche lui è non mi ricordo di preciso dipende perché nel Simmerillion è uno dei Teleri che vive no è un Sindar mentre nella History poi è uno dei Teleri e dopo va con Galadriel dall'altra parte perché è la storia di Galadriel fa parte della stessa famiglia però rimaniamo sul fatto che anche lui aveva i capelli grigi e argento ed era imparentato con Tingle in qualche modo era imparentato con Tingle tanto è vero che anche Galadriel tanto che quando viene fuori che vanno dall'altra parte Tingle si arrabbia perché hanno detto quelli sono i miei parenti e quindi gli unici con cui parlava erano i figli di Finarfin perché erano imparentati Galadriel stessa infatti figlia di Finarfin che parenti di Tingle come vengono descritti i suoi capelli i suoi capelli sono luminosi e biondo argento è una commistione di biondo di Vanyar e di argento della stirpe della famiglia di Tingle quindi è una caratteristica che contraddistingueva la casata reale degli elfi grigi perché dico questo? perché si tende ci sono anche diversi illustratori che quando rappresentano gli elfi grigi i Sindar del Doriath della prima era del Beleriand gli fanno tutti quei capelli grigi grigio argento eccetera perché? perché c'è stato questo accostamento che è dato oltre a quello degli scritti dove già gli elfi grigi vengono definiti così anche per la chioma grigio argento del loro re però sono andati oltre e li rappresentano così sai che molte cose non si sapevano per esempio una delle più famose copertine della history è una di un volume è la credo dei Lai del Beleriand non vorrei sbagliare ma dovrebbe essere quella è quella di John Howe di Fingolfing che combatte contro Morgoth che è iconica perché ha dato anche l'ispirazione a Peter Jackson per fare Sauron cioè il Sauron che vediamo in Signore degli Anelli è il Morgoth di John Howe nel Simmarillion ecco e in quel caso noi vediamo che John Howe è uno dei più grandi illustratori che era fatto Fingolfing biondo quando in realtà non era biondo e quindi sono cose che progressivamente con il tempo grazie alla history grazie alla nature abbiamo scoperto molto più nel dettaglio altrimenti era più facile dire gli elfi sono tutti piondo invece non è così sicuramente per esempio la butto lì così se andate a recuperare se siete della vecchia guardia andate a recuperare i vecchi videogiochi sulla terra di mezzo tipo la terra di mezzo l'ascesa del re stregone di Youngmar e così vedete che le truppe elfi che spesso e volentieri sono tutti biondi vedete i guerrieri elfi tutti uguali tutti biondi perché? perché c'era anche l'immaginario dei film che ancora non era ben ben coerente con gli scritti che verranno pubblicati poi in seguito e che verranno studiati e quindi sulle chiome a parte poi la beh poi ci sono personaggi ci sono personaggi come Gil-galad di cui abbiamo scoperto il colore dei capelli anche lui grigio argento perché? perché è imparentato con Tingle sempre perché? perché è figlio di Orodret della stirpe di Finarfin e siamo sempre lì quindi anche lì c'è una differenza fenotipica dettata dalla stirpe e per questo quindi che si possono fare delle deduzioni secondo me legittime sul fatto perché è aldire biondo probabilmente perché sarà avvenuta una cosa del genere a quello che è successo con i figli di Finarfin che si sono incrociati con la stirpe reale dei Teleri e quindi sono usciti fuori biondi e argentati nel popolo dei Noldor perché qualunque sia la genetica che componeva Gil-Galad lui era sovrano di tante stirpe elfiche ma era l'alto re dei Noldor della terra di Venn ma certo Gil-Galad era un Noldor come avrebbe dovuto essere dopo di lui Elrond che però non ha voluto prendere il titolo ma a tutti gli effetti potremmo considerarlo l'erede di Gil-Galad ecco visto che era anche il suo Elrond è il parente maschio più vicino in vita di Gil-Galad dopo la sua morte dopo la morte dell'alto re mi sembra di sì mi sembra di sì ma lui infatti avrebbe potuto diventarlo ma rifiutano di diventare l'alto re dei Noldor quindi sì è sempre di quella famiglia lì anche se poi ovviamente alle spalle ha un sacco di parentele incredibili comunque Paolo visto che ti interessa il nome di Tingle ok del manto grigio che hai fatto quella bellissima riflessione noi sappiamo che i nomi elfici spesso e volentieri hanno una componente dettata dalla madre perché cosa ci dice Tolkien che le madri elfiche avevano spesso e volentieri delle doti profetiche nei riguardi dei figli e quindi gli mettevano un nome in accordo a quello che presagivano sarebbe stato il loro futuro fatti caso che Tigl viene chiamato proprio così dalla madre come Feanor che il padre l'ha chiamato Curufingue e invece la madre che ha capito chi era l'ha chiamato Feanor Spirito di Fuoco perché gli elfi hanno tre nomi e il secondo quello della madre è spesso quello che delinea il loro carattere questa è una cosa bellissima perché veramente nome contiene anche l'essenza o la storia del personaggio oltre che il suo carattere e questa è una cosa favolosa e questo ci fa pensare che Curufing quella disgraziato dei figli dei tre figli di Feanor era il più simile a Feanor anche dal punto di vista fisico e quindi siccome poi è il padre di Celebrimbor probabilmente Celebrimbor ha molto a che vedere con Feanor anche dal punto di vista dell'aspetto e poi a maggior ragione dovremmo pensare che era ammarico non vedere un Celebrimbor fabbro un Celebrimbor che crea e un Celebrimbor che è un nuovo Feanor cioè vedere un nuovo Feanor che crea gli anelli del potere è bello bella questa cosa pensando che uno ha creato i Silmaril e l'altro gli anelli del potere che le Brimbor la serie signori esteticamente non ci azzecca niente tutto quello che abbiamo detto proprio non c'entra assolutamente nulla dovrebbe essere non dico il mini me di Feanor perché quello era il padre ma dovrebbe essere il mini mini me il mini me di Austin Power che citazioni che vi facciamo elevatissime e ultimissima cosa poi ti lascio la parola Paolo riguardo ritorniamo a quello di cui parlavamo prima degli occhi degli elfi perché un altro elfo di cui viene descritto il colore degli occhi a parte Olwe che ci vengono detti blu gli occhi di Olwe sono blu non grigi blu un altro elfo che ha gli occhi grigi è Voronwe il marinaio che è quello salvato da Ulmo che farà da guida Tur per portarlo a Gondolin lui che sopravvive alla disgraziata missione mandata da Turgon è bellissimo Voronwe e Voronwe però lui ci racconta chi è nel racconto della caduta di Gondolin lui è un mezzo sangue perché è nato nella terra di mezzo è figlio di papà Noldo e mamma Sindha elfa grigia del popolo delle coste di Kirdan anzi è anche imparentato in qualche modo con Kirdan e quindi qua sorge una domanda ok i Noldor avevano gli occhi luminosi perché erano Calaquindi venivano da Valinor e loro figli mezzo sangue eh dipende secondo me se sono stati a Valinor o no perché invece se nascevano le terra di mezzo non avevano visto la luce degli alberi o erano nati dopo la distruzione degli alberi secondo me non ce l'avevano questa cosa questa è una mia personalissima opinione non voglio dire che è legge però ci potrebbe stare perché una volta che sei davanti agli alberi hai la luce dentro si la assorbi in qualche modo dopo se invece nasce nella terra di mezzo è diverso e quindi era ancora più una tragedia il fatto che Noldor morissero nel corso delle varie guerre eccetera perché poi anche se procreavano esatto i figli non avevano la luminosità di Valinor infatti Elrond non ha mica la luce negli occhi c'è la Galadriel che viene da lì ricordiamo come sempre nella Nature of Middle Earth ci viene esplicato chiaramente da Tolkien e dai suoi scritti quando Elrond sceglie fa la sua scelta di diventare elfo viene cambiato biologicamente in toto in un elfo luminoso in un Calaquendi però come dice Paolo gli occhi non gli diventano luminosi perché non ha mai visto gli alberi di Valinor e nemmeno Valar che lo modificarono a fronte della sua scelta potevano fargli vedere gli alberi di Valinor perché nemmeno loro lo sappiamo potevano far risuscitare quella luce io ti ringrazio di aver introdotto questo argomento perché a questo punto entriamo a gamba tesa nel problema mezzelfi allora anche qui io ti chiedo la tua opinione perché io non saprei da che parte girarmi cioè io ho una teoria personale allora siccome tu hai appena detto che Elrond quando decide di diventare di abbracciare il futuro degli elfi diventa a tutti gli effetti un alto elfo mentre suo fratello Elros diventa il umano il primo re di Númenor e diventa a tutti gli effetti un Númenoreano quindi è un Númenoreano all'ennesima potenza però è un Númenoreano quindi sono diversi anche dal punto di vista fisico i due personaggi anche se sono fratelli perché hanno deciso questo futuro allora a questo proposito è quando un elfo decide il suo futuro cioè cambia anche fisicamente ne siamo certi questa è una domanda perché qualcuno invece ipotizza che il problema sia solo il destino cioè tu dici io sono un elfo quindi divento immortale non mi cambia niente nella vita mentre divento un uomo e quindi divento mortale ma non mi cambia niente a livello fisico resto tale e quale se le cose stanno così e io sono anche di questa opinione che stanno così allora però non mi spiego il motivo per cui i mezzelfi in fondo non sono pienamente elfi cioè i figli di Elrond Eladam e Delroir che sono fanno le cose sono super super wow combattono combattono gli elfi e sembrano elfi a tutti gli effetti fortissimi però in realtà se noi andiamo a vedere il signore degli anelli Legolas che è un un poveraccio che c'è un elfo dei boschi il figlio del re di re Tranduil ma non è un alto elfo diciamo al massimo un elfo grigio puro se la sposa di Tranduil era forse non è un alto elfo un altro un oldor di quel eppure Legolas dal punto di vista dei poteri parliamo di poteri alla Dragon Ball è più forte di loro cioè ha più poteri di loro e lo dice il testo cioè quando vanno verso il Moranno nessuno vede che c'è il Nazgul che vola sopra e lo vede Legolas è l'unico che vede perché era super vista da elfo e poi quando attraversano il sentiero dei morti hanno tutti paura gli dune dai cavalli e anche i figli di Elrond mentre Legolas non ha paura dei morti quindi questo mi dà l'idea che i mezzelfi in fondo sono ibridati cioè a tutti gli effetti non sono elfi pieni possono probabilmente come dici tu finché non decidono qual è il loro futuro restano su questo livello qua cioè non sono pienamente elfi quindi non sono alti elfi con i loro poteri nel momento in cui Elladan e Del Roir decidono di diventare pienamente elfi e probabilmente allora diventano super wow come Legolas e vedono il Nazgul in fondo questa è la mia personale teoria tu cosa pensi di questo? ma no io sono generalmente d'accordo con la tua teoria perché se andiamo a vedere gli esempi di tutti i mezzelfi che conosciamo ok sappiamo che la decisione data dall'alto ai membri dei mezzelfi di decidere quando vogliono se diventare effettivamente elfi o effettivamente umani se essere immortali o no in origine non era presente nel Beleriand nascono dei mezzelfi tra Luthien e Beren nasce Dior l'erede di Elu di Tingle che è un mezzelfo nasce anche Earendil nasce Helwing la figlia di Dior e tutti loro se andiamo a vedere le cronologie gli annali raggiungono la maturità a 20 anni cioè più o meno come un essere umano molto prima degli elfi si sposano a 30 se loro avessero una natura elfica se avessero avuto una natura elfica a 30 anni ancora non dico che gattonavano però di sicuro non si sarebbero sposati almeno ai 100 ci dovevano arrivare anzi di più in realtà visto che si parla della prima era quindi la regola generale sembra perché abbiamo esempi anche successivi vedasi la stirpe dei principi di Dol Ambroth che sono imparentati con gli elfi pare dall'unione di umani ed elfi la regola generale è che tra un'unione tra un umano un umano e un elfo e un elfa nasce un umano e un'umana puri 100% stop di natura di natura e di caratteristiche principali fenotipicamente lì è un altro discorso perché Imrail il principe di Dol Ambroth nella guerra dell'anello viene riconosciuto da Legolas per la sua elficità fenotipica diciamo così molto probabilmente perché sembrava molto più giovane dei suoi anni e perché ci viene proprio detto da Tolkien nella Nature che era privo di barba e questo era un tratto fenotipico fenotipico tipico di chi aveva sangue elfico nelle vene anche Aragorn della stirpe reale di Númenor anche Aragorn non ha la barba quindi quello che vedete nella trilogia di Jax Viggo Mortars è un attorone un bel attorone però non è l'Aragorn dell'ambientazione ma è come Gandalf che non ha i baffi in realtà poi sono cose molto minori ovviamente sono cose minori che all'epoca neanche si sa però non descrive al 100% in modo tossico perfetto da nanti tolkieniani esatto visto che parlano dei tolkieniani tossici adesso noi ci cavoliamo fa schifo perché Aragorn ha la barba la trilogia di Jax ovviamente no però sia ben chiaro che non è proprio l'Aragorn al 100.000% del mondo di Tolkien e così via anche Denethor Faramir Boromir nessuno di loro dovrebbe avere la barba abbiamo avuto le bellissime trasposizioni cinematografiche di questi personaggi vanno benissimo anche con la barba anzi ci mancherebbe però non penso che qualcuno abbia problemi per la barba di Aragorn o Boromir perché se c'è signori non lo so un individuo del genere che guarda gli anelli del potere esplode allora gli viene un'embolia rotola giù cade giù credo mi dispiace per lui o per lei e poi abbiamo citato il elfico la barba a proposito di barbe perché il padre di Nerdanel aveva la barba rossa castana Kirdan il carpentiere ha la barba e poi c'è un altro personaggio che ha la barba che è Beleg personaggio non so se tutti lo conoscano è il grande amico di Turing quello che potenzialmente poi no che fa anche una bruttissima fine perché paradossalmente viene ucciso proprio da Turing che non sa che è lui e lo trapassa con la sua stessa spada e Beleg che a un certo punto ci viene disegnato da Tolkien all'interno di un disegno quando Beleg incontra l'elfo Gwyndor che è fuggito da Angband dove è stato imprigionato dopo la Nirna Eternoid scopriamo che Beleg ha la barba perché Tolkien l'ha dipinto con la barba questa cosa trova conferma anche nella Nature in cui si dice che Beleg lega la barba ma allora perché questi elfi hanno la barba e tutti gli altri no? è perché nella Nature ci vengono svelate i cicli di vita degli elfi e gli elfi hanno tre cicli di vita e quando arrivano alla fine della loro vita migliaia e migliaia di anni gli spunta la barba perché gli elfi hanno un metabolismo molto diverso da quello degli uomini e allora è affascinante questa cosa perché noi dovremmo pensare che gli elfi più vecchi abbiano tutti la barba però noi ne conosciamo tre e poi gli altri possiamo solo immaginare perché nessuno ne ha mai parlato perché nessuno sa chi c'è a Valinor che probabilmente ha la barba quasi tutti quelli più anziani cioè Ingwe io me lo immagino con un bel barbone biondo lo dico e tra l'altro di questi tre ci viene detto specificatamente che uno Matan è un unicum è un'eccezione perché la barba gli è spuntata nel secondo ciclo di vita quindi molto precoce tra l'altro non sappiamo neanche quanto era lunga questa barba perché Kirdan ci dice alla fine del Signore degli Anelli che aveva un bel barbone grigio bello lungo però Matan sappiamo solo che ha la barba non sappiamo doveva avere anche la barba come la mia per dire non si sa non si sa la lunghezza della barba di Matan oltre al fatto che è lui il capostipite della stirpe Bruno Rossiccia nessun altro elfo viene descritto Bruno Rossiccio con buona pace della Tauriel dell'Hobbit è vero ma sai Paolo ma penso che te ne sarai proprio che tu da grande stimatore dei mondi fantasy gli elfi rossi e le elfe rosse vanno per la maggiore vanno per la maggiore adesso si nelle illustrazioni vanno forti anche in The Witcher eppure in Tolkien che diciamo forse non è l'unico però è il principale progenitore di tutto ciò elfi rossi non esistono ci sono due quattro Bruno Rossicci e basta è finita lì e poi abbiamo questi personaggi a cui spunta la barba ma allora Beleg con la barba nella prima era noi dobbiamo solo pensare quanto vecchio era cioè incredibile questa cosa o era precoce anche lui o altrimenti dobbiamo pensare che era uno dei primi elfi della storia perché è incredibile perché Kirdan ha la barba ma Kirdan arriva alla fine della terza era a una certa età invece Beleg viene fatto fuori dopo la Nierna e Tarnoide e anche di Beleg in quell'illustrazione non ha il barbone ha la barba esatto si ha la barbetta che gli viene fuori si è vero solo sul mezzo si vede è rilevante però finisce qui non è che prosegue alla Gandalf o alla Kirdan però giustamente come dicevi questo denota che quantomeno si può ipotizzare che Beleg almeno abbia visto l'inizio della grande marcia da cui viene per arrivare a Valinor quindi sembra un personaggio secondario invece è un personaggio che c'è sempre stato è incredibile questa cosa e no e dopo noi dovevamo pensare a Kirdan quanto con la barba che personaggio carismatico doveva essere ma in realtà ha un elfo che spunta la barba ormai è arrivato nel terzo ciclo della sua vita e quindi cioè si avvicina al fantomatico sbiadimento perché c'è anche questo da dire gli elfi sbiadiscono tutti quelli che dicono gli elfi sono immortali sì andiamoci piano gli elfi sono immortali perché non possono abbandonare il mondo ma in realtà perdono il loro corpo che si consuma ecco quindi anche lì la serie che mi parla degli elfi che hanno paura di morire tutte queste cose qui scoprono che il loro corpo potrebbe svanire vabbè tutte cose che non hanno senso gli elfi sanno benissimo di essere fatti così e nel momento in cui hanno abbandonato Aman e sono andati nella terra di mezzo vanno incontro alla corruzione del mondo che li porta o a tornare a Valinor oppure a rimanere nella terra di mezzo però esponendosi ai rischi dello sbiadimento che li porta ad essere sempre più sottili fino ad essere invisibili e il loro spirito rimane ancorato al mondo e a vagare per sempre tra l'altro ci dice che gli elfi lo spirito degli elfi sbiaditi per sempre possono essere carpiti dalle forze del male da Sauron e essere utilizzati come spiriti del male quindi è una cosa terribile questa non credo che piacesse molto agli elfi questa possibilità e noi vediamo che Kirdan ormai è molto anziano qui però non ci viene descritto fisicamente concretamente come invece ci viene descritta Galadriel perché Galadriel è quella che meglio secondo me esprime questo concetto di sbiadimento con traduzione sbiadimento è brutto però non ne abbiamo un altro per dire proprio questo processo che porta gli elfi sempre di più a sbiadire a diventare sottili proprio a perdere la loro corporità diafona esatto a un certo punto viene detto che le mani di Galadriel sono traslucide nel testo cosa vuol dire questa roba Galadriel è ineffabile è quasi trasparente perché è talmente anziana che ormai è all'esbradimento e alle porte quindi lei sta per svanire completamente questo rende ancora più angosciante il momento in cui lei è tentata dall'anello perché lei non ha la certezza di poter tornare indietro in quel momento potrebbe effettivamente risolvere il problema cioè o tornava a Valinor o prende l'anello oppure aspetta lì e sa che diventerà un puro spirito però il fascino del personaggio di Galadriel non sono solo i suoi capelli ma è anche questa cosa che è proprio non si riesce a cogliere è un'essenza proprio è ineffabile queste mani traslucide ti fa pensare che sia quasi trasparente è incredibile per quello che poi viene descritta così in maniera così affascinante e ha questo potere anche di parlare perché è un è un qualcosa di completamente altro rispetto all'esperienza di un uomo per esempio e questi sono aspetti altrettanto fantastici poi volevo farti una domanda a questo proposito noi abbiamo il personaggio di Glorfindel che è un un altro di quelli che viene nitizzato spesso dai fan perché sappiamo che è l'unico che torna indietro è uno di cui sappiamo che è tornato indietro col suo corpo nella terra di mezzo perché poi Finrod viene anche lui ritorna ma non torna nella terra di mezzo sta di là invece Glorfindel torna proprio e aiuta poi a combattere materialmente è quello che aiuta Frodo la compagnia arrivare a Rivendel e Glorfindel è un altro signore benedetto degli Eldar e lo dice Gandalf ma la cosa bellissima è che Frodo quando mette l'anello cioè no quando mette l'anello quando combatte contro i Nazgul che lo tentano e hanno potere su di lui perché vogliono l'anello e vogliono portarlo a Mordor ormai Frodo vive in una specie di mondo alternativo è entrato nella dimensione dei Cavalieri Neri perché è stato colpito dopo che ha messo l'anello ed è entrato nella loro dimensione e quindi il re Stregone l'ha pugnalato ma a questo punto lui vede Glorfindel come una luce nelle tenebre perché l'ha visto dice Gandalf nell'altra dimensione come lui effettivamente è questa domanda che ti rivolgo è ma gli elfi sono tutti così oppure sono gli elfi che sono stati a Valinor oppure Glorfindel perché è Glorfindel ed è stato fatto così cioè una cosa veramente non lo so è molto difficile da capire che uno dice perché anche siamo traviati dai film cioè nel momento in cui Frodo poi vede Arwen tutta con la luce nelle tenebre perché lì doveva esserci Glorfindel e allora hanno mostrato che Arwen ha queste caratteristiche ma poi questo torna anche nell'Obbit dove c'è la citazione ulteriore in cui anche Tauriel diventa questa cosa qui per il ferito per il nano ferito ma è effettivamente così cioè tutti gli elfi anche i per esempio gli avali mettiamo sono i mezzelfi come Arwen in quel momento esatto nel momento in cui sei nell'ombra vedi gli elfi così non lo so io sai che non ho una posizione al riguardo secondo me gli elfi c'entrano con la luce ma in quel momento lo vedono così perché è Glorfindel è una questione complessa è una questione complessa e effettivamente Glorfindel poi non possiamo prenderlo come esempio neanche per un alto elfo generico cioè è proprio una cosa a parte Glorfindel perché ci viene proprio detto che viene potenziato in qualche modo dai Valar viene dotato di poteri spirituali eccetera purificato e tutto il resto prima di essere rimandato nella terra di mezzo quindi sinceramente non saprei l'unico accostamento che mi viene in mente è quello con il racconto inconcluso di Tal Elmar dove Elmar in sogno nella mente nel mondo dello spirito possiamo dire boh vede gli elfi e fa l'accostamento con i Numenoreani però non li chiama i luminosi dice sono che i Numenoreani assomigliano a quelli che lui ha visto in sogno nell'altro mondo o quel che è ma quelli gli elfi erano più belli dei Numenoreani e i Numenoreani per quanto avessero tutti i loro superdoni non erano luminosi è anche vero però che sempre in quel racconto i Numenoreani inizialmente scambiano il protagonista Tal Elmar che è un semplice ragazzo umano della terra di mezzo per un elfo perché? perché loro lo vedono sulla costa al tramonto con la luce del sole che lo illumina lo rende una figura luminosa e dicono ah è un elfo e forse è figlio di un elfo cioè è discendente di un elfo potrebbe essere un elfo e quindi è molto ambigua questa cosa e sinceramente non saprei guarda davvero davvero come soprattutto poi i mezzelfi che ancora non hanno preso una decisione come cavolo potrebbero essere nel mondo dello spirito perché gli elfi hanno a che fare con la luce cioè c'è poco da fare sì sono il popolo della luce e le stelle cioè loro vedono le stelle si commuovono perché è la memoria delle terre imperiture diciamo che perfino gli avari in realtà hanno la luce in sé perché sono elfi per quanto abbiano risultato l'invito dei Valar per quanto rimangano nella terra di mezzo poi si si mettano da parte rispetto a tutti sono elfi e questo non cambierà mai rimarranno sempre elfi e gli elfi sono dall'origine attratti dalla luce perché dal cui viene Arna il racconto della nascita della razza elfica la prima cosa che fanno gli elfi è guardare il cielo e la luce delle stelle la prima cosa che dicono è stella e è per questo che alcuni rifiutano di andare perché non vogliono lasciare la luce delle stelle a cui sono abituati tanto che anche il Kalakiri viene fatto apposta perché gli abitanti dell'isola di Toleresea non perdano la possibilità di vedere la luce delle stelle è una cosa bellissima infatti ci viene ci viene detto sul Kalakiri il passo della luce che non solo gli abitanti di Toleresea i Teleri che poi se ne vanno ad Alqualonde quindi sulla costa i Valinor volevano quella luce ma in Aldor e addirittura i Vanyar una volta ogni tanto hanno bisogno di sentire l'aria e la luce l'aria della terra di mezzo perfino i Vanyar hanno bisogno quindi gli Elfi sono creature di luce possiamo dire Tolkien nelle sue lettere ne parla come lo sappiamo come degli uomini dell'Eden possiamo dire figure nonostante tutte le loro passioni e i loro peccati sono figure molto correlate all'immaginario angelico nonostante non siano ovviamente degli angeli perché angeli che fanno le cose che fanno gli Elfi oddio diciamo che legandoci al al discorso dell'aspetto fisico quando si parlava infatti di Galadriel e del suo svanimento se andate a riprendere quei passi allo Thlórien nel romanzo Galadriel prima si fomenta tutta quando c'è la tentazione diventa terribile Frodo si spaventa del suo potere però poi quando lei rifiuta la tentazione cosa ci dice il testo che ritorna un esile dama elfica non mi ricordo di precedere comunque ritorna esile sottile all'apparenza una fanciulla una donna elfica magra il che va in contrapposizione però con la descrizione della sua gioventù dove ci viene detto che era una super campionessa olimpica atletica e tutto il resto quindi lo svanimento va a influire anche su l'esteriorità degli elfi tanto è vero che c'è un concept a me piace molto perché ci rivedo tanto della concezione numerica del passare delle generazioni e del non della caduta dello sminuimento delle caratteristiche dei popoli gli elfi della prima era erano più potenti più forti tutti in generale più alti addirittura degli elfi che diventeranno dopo erano più buscolosi tanto è vero che infatti cosa vediamo avevano anche più figli avevano più figli erano più prolifici tanto è vero che infatti cosa vediamo Galadriel che è passata essere la campionessa olimpica ha una sottile dama elfica e quindi questo va a influire proprio sull'aspetto fenotipico che è intersecato alla natura della razza in questione è imprescindibile per questo che non possiamo metterlo da parte totalmente denigrarlo e dire non ci interessa assolutamente niente dell'aspetto fisico no è importante che è quello perché fa parte delle caratteristiche che vanno a descrivere quel popolo quel protagonista di quel popolo di quella razza e così via tanto è vero che gli uomini al contrario partono dalla prima era dove sono più deboli più bassi e così via diventano sempre più forti più alti eccetera alcuni dicono che è un concept che è da relegare solo nel proto legendarium l'early legendarium però in realtà troviamo che effettivamente c'è questo svanimento anche fisico degli elfi che va a influire sul loro aspetto fisico certo Legolas è una giovane quercia come ci dice Tolkien letteralmente forte ma Legolas è un giovane elfo è un giovane elfo molto probabilmente nato nella terza era Galadriel come hai detto giustamente Paolo si avvia verso l'anzianità è nata negli anni degli alberi quindi ci sono poi tutti i calcoli bellissimi nella nature of middle earth dell'età di Galadriel che è una bella nonnina Galadriel non sembra però ricordiamo che nella nature c'è il calcolo della vita anche degli elfi con i vari cicli stadi di vita degli elfi quindi da prima secondo primo ciclo secondo ciclo terzo ciclo e anche quanti figli facevano gli elfi quanti in media quanto passava tra un figlio e l'altro quanti anni doveva aspettare una madre per rifare un altro figlio e alla fine venivano fuori centinaia di anni per avere più figli e ci sono anche erano cinque nella prima era per coppia e poi sono passati a due in seguito quindi anche qui si vede che gli elfi progressivamente decadono perdono un po' di tutto perdono un po' di tutto e ci sono anche tante descrizioni fisiche perché abbiamo anche l'altezza degli elfi originari nel capitolino su la descrizione delle caratteristiche dei personaggi si parla proprio dell'altezza e gli eldar originari che si dipartirono da cui viene e arrivarono a Valinor erano imponenti Tolkien ci dice che i maschi erano più o meno un maschio medio un elfo medio era sui due metri e un elfa molto raramente era sotto il metro e ottanta quindi una popolazione degli individui possenti però andiamo a vedere Legolas e Legolas nonostante la sua altezza da giovane quercia perché mi piace troppo come l'ha descritto puntigliosamente Tolkien quando si arrabbiò per la sua rappresentazione come folletto folcloristico della tradizione anglosassone diceva no Legolas era alto e possente come una giovane quercia tuttavia era più basso di Aragorn e Boromir che Aragorn un metro e novantotto Boromir un metro e novantadue quindi numero reani quindi mettiamo mettiamo che Legolas fosse anche solo un metro e novanta per dire comunque ci ritroviamo già per un giovane elfo addirittura a un abbassamento di questa caratteristica fisica che in origine era più alta perché se gli individui erano alti su due metri c'è stato un bel abbassamento almeno di dieci centimetri nell'altezza media e questo un antropologo lo ritiene un dato molto importante dice lo individua e dice ah cavolo eh anche Tolkien ne sapeva anche poi lui stesso era lui stesso sono andato a leggere i suoi testi a dire soprattutto molto onesto dal punto di vista della geografia degli elementi geografici dice questo non ha molto senso però ai fini della mia ambientazione ho fatto così spero che oggi non mi picchino ma perché utilizzava tutte le cose in una chiave narrativa e ci sta cioè cercava di organizzare il tutto al meglio per organizzare una narrazione credibile e quindi offrire anche profondità tutto quello che abbiamo detto poi ovviamente non faceva il genetista di professione però possiamo dire che ci è riuscito sì certo perché dava comunque profondità si poneva delle problematiche in una chiave narrativa è quello che dovrebbe fare un buon autore che ovviamente non si richiede che uno che scrive un libro sull'eruzione del vulcano a Pompei sia un vulcanologo però magari sapere come funziona aiuta per rendere un po' credibile ecco ma alla luce di tutto questo allora adesso veniamo a parlare un po' degli aspetti spinosi della questione ma abbiamo visto gli elfi rappresentati in una determinata maniera nel film di Peter Jackson o anche in quello di Ralph Bakshi dove Elrond era rappresentato come una specie di Giulio Cesare quindi vabbè gli elfi poi sono stati interpretati in vari modi e curiosamente comunque in entrambi i film Legolas è biondo perché poi viene detto che in realtà non è biondo ma in realtà anche Bakshi l'ha fatto biondo vabbè e comunque se suo padre era biondo nulla mi toglie dalla testa che poteva essere biondo anche lui ma comunque dopo abbiamo visto invece la serie di Amazon che gli elfi li ha trattati in una maniera molto diversa c'è l'elfo che dice all'altro lavati che puzzi tutti frasi che non hanno molto senso e poi hanno cercato di fare gli elfi in maniera diversa rispetto a quello che noi eravamo abituati a pensare ma non l'hanno fatto sulla base dei testi cioè è questa la cosa pazzesca hanno voluto prendere le distanze da Peter Jackson solo in questo perché poi in altre cose sono uguali invece per gli elfi hanno detto no facciamo degli elfi nuovi e hanno fatto degli elfi che sono completamente appiattiti sulla società di oggi allora io ti chiedo cosa ne pensi ma la mia idea è che se avessero voluto fare una cosa del genere avrebbero potuto farla meglio già mi spiego vuoi farmi il personaggio di colore elfo allora spremiti un po' più le meningi e fammi un mezzelfo nero e giustifichamelo cioè fai che questo personaggio di colore è il figlio di un elfo e di una donna di colore che è venuto fuori di colore era un mezzelfo nero e nessuno avrebbe protestato perché ci sta perfettamente perché avrebbe rispettato il chiamiamolo canone anche se il canone adesso non esiste insomma tutto leggendare un tolkeniano così come lo conosciamo insomma sarebbero potuti sbattere di più ma in realtà non c'era questa volontà e hanno dimostrato in questo modo che hanno svilito allo stesso tempo anche la riflessione che si sarebbe potuta fare con un personaggio del genere perché un mezzelfo avrebbe riflettuto maggiormente sul rapporto tra morte e immortalità e loro gli sceneggiatori gli showrunner hanno sempre detto che la chiave di lettura della loro serie era il rapporto tra la morte e l'immortalità come dice Tolkien benissimo però fallo meglio cioè prendimi dei personaggi che riflettono proprio su quello perché chi più dei mezzelfi ragiona su questo punto cioè Beren e Luthien che fanno Dior che ecco ci siamo capiti oppure Tuor e Idril che fanno Erendil personaggio così da poco ecco e la storia di Aragorn e Arwen cioè i mezzelfi sono fondamentali perché offrono una chiave di fuga dal destino delle due razze e siccome questi fanno vedere un amore tra un elfo e una donna avrebbero potuto fare un mezzelfo che ha deciso di rimanere elfo e una donna e non sarebbe cambiato nulla e nessuno di noi avrebbe protestato il problema è che sarebbe stato molto più credibile almeno io la vedo così tu cosa ne pensi? Io sono assolutamente d'accordo perché mi sembra anche una tematica che non ha perso di rilevanza nonostante sia stata messa da parte perché generalmente sono stati evidenziati altri tutti gli altri tanti problemi che sono fuoriusciti dopo la visione di questa serie che li abbiamo constatati l'idea del mezzelfo di colore sarebbe stata molto interessante a me sarebbe piaciuto tanto vederla perché sappiamo che gli elfi si spingevano anche in zone meridionali comunque l'Itilien era dai tempi remoti un luogo abitato dagli elfi ma c'era anche l'Ederlon del porto elfo del sud e così via e sappiamo che è possibile che ci siano delle unioni tra elfi umani di cui non se ne traccia per esempio vedasi quella tra Imra azzurri il numero reano e la madame gel elfica mitrellas che è un incontro fortuito che tutta la storia è descritta nelle appendici del signore degli anelli lei si ritrova a scappare nelle selve e lui la incontra per caso e da lì nasce il loro amore quindi nulla toglie che un elfo o un elfa incontrino per caso un uomo o una donna e possano unirsi a loro è legittimo inventarsi una cosa del genere e dato che hanno dimostrato che non hanno avuto nessuna remora a inventarsila qualunque perché non inventarsi allora cose coerenti cose sensate e esattamente incastrabili nel legendarium esempio mettiamo che io voglio metterci il personaggio elfico di colore nell'ambientazione di Tolkien ok mettiamo che quarta era faccio la serie sulla quarta era perché c'è scritto poco posso inventare tanto benissimo noi non sappiamo nulla per esempio la butto lì per farvi capire secondo me cosa vuol dire ingegnarsi un attimo su una cosa coerente ma inventabile e che soddisfa le mie esigenze perché se io voglio mettercelo è una mia esigenza è un'esigenza che sento dicevo facciamo una serie sulla quarta era per dire non sappiamo nulla del fatto di Eladon e le Roy possiamo prendere benissimo uno dei due o tutte e due e inventarci che tanto erano grandi viaggiatori grandi esploratori andavano a destra e a sinistra che uno dei due abbia incontrato una donna mortale di colore e abbia fatto dei figli un figlio perché no non sappiamo niente della loro storia finale cioè è plausibile ed è incastrabile e in quel caso tra l'altro sarebbe anche benedetto dalla scelta data alla stirpe di Arendelle e Elwing quindi lo potremmo fare pure Bortale per il momento fin quando non fa la sua scelta quindi avremmo effettivamente a tutti gli effetti perché a livello cinematografico poi si percepisce poco la questione mezzelfica avremmo a tutti gli effetti un individuo elfico immortale di colore che quando fa la sua scelta per dire cioè ci sono i modi per incastrare queste cose a parte che tutti che dicono era un'esigenza oggigiorno un'esigenza che ci siano personaggi di colore ho capito facciamoli umani facciamoli anche nani se volessi amico un protagonista nero che fugga dall'arad che faccia il super campione io avrei amato bellissimo io avrei amato una serie anche non con una pletora di personaggi alla game of thrones come rings of power ho immaginato anche un personaggio protagonista principale di colore sudrone aradri orientale ci stava bene anche inventato completamente anzi completamente inventato potevano fare camul per dire camul il nero tutta una serie con protagonista camul il nero non vogliamo perché camul diventa un nansgull ed è cattivo e non va bene facciamo qualcun altro facciamo la sposa di camul che la facciamo ribelle buona e tutto il resto ma perché no tanto possiamo inventare tu qui possiamo inventare tutto possiamo inventare ma è l'obbligo in ogni singola razza in ogni singolo popolo in ogni singola sottetria ci devono essere quelli ci deve essere tutta la vasta bellissima meravigliosa rappresentazione di tutte le trie del mondo primario ma allora questo vuol dire che non gliene frega una beata mazza della rappresentazione etnica come viene descritta da Tolkien per illustrare la sua ambientazione per caratterizzare e dare spessore alla sua ambientazione perché se tu mi fai tutti uguali vuol dire che perdono di valore le caratteristiche esteriori adesso stiamo parlando solo di caratteristiche fenotipiche di aspetto etrico e così via se tu mi fai tutti uguali vuol dire che niente la differenza non ha valore non ha senso a sto punto perché fare i nani bassi facciamoli alti perché fare gli elfi con l'orecchia punta che quello è un elemento fisico perché non esistono persone con l'orecchia punta nel mondo primario che potrebbero offendersi ok i nani esistono però sono una cosa completamente diversa i nostri nani sono affetti da una sindrome e qualche l'è ma comunque si possono offendere vedersi qualche anno fa Peter Dinklage il buon Tyrion Lannister e la sua protesta contro i nani di Biancaneve se non vado errato la presentazione di navide quindi tanto è vero che questa serie per altri motivi ha comunque fatto incavolare alcune etnie ci sono stati per esempio irlandesi e scozzesi che si sono incavolati molto con la serie per motivi culturali e rappresentazione culturale però sempre legati alla questione culturale etnica anche lì l'elfo di colore ma ok questo sembra che vi sto fomentando ma perché è una cosa che si può escludere totalmente se uno va a leggersi gli scritti di Tolkien perché come avevamo già detto in altri video precedenti durante la serie ne abbiamo fatti tanti Paolo io Cronache della Terra di Mezzo Frank Di Valinor sono un piccolo pool genetico di 144 individui tutti creati in un piccolo posto immortali quindi immortali per modo di dire nel loro nel senso elfico degli elfi di Tolkien che quindi per sviluppare delle modifiche fenotipiche dettate per esempio all'ambiente come potrebbero essere gli occhi chiari per dire ci impiegherebbero miliardi di anni coerentemente a come vengono descritti la pelle scura perché nel deserto può darsi che degli elfi sono andati nel deserto quindi sono diventati pelle scura ok ma ci vogliono miliardi miliardi di anni nell'ambientazione di Tolkien per degli elfi per sviluppare un adattamento fenotipico di questo tipo e in più da come vengono descritti culturalmente nell'ambientazione soprattutto in Oldor come abbiamo detto diverse volte prima io e Paolo sono quelli che narrano le cronache le storie eccetera sono fissati con l'aspetto fisico ti dicono anche il colore del capello che hai dietro sulla nuca ti dicono quanto sei bello quanto sei brutto chi è biondo chi è scuro chi è grigio cioè l'abbiamo visto prima con le varie descrizioni fenotipiche delle caratteristiche fisiche quindi figurarsi se ci fosse stata una famiglia di elfi di colore se non fosse stata evidenziata a tutto spiano da quei maledetti dei Noldor quindi è altamente improbabile altamente improbabile poi certo uno se le può inventare le cose ma un elfo puro sangue alla Voldemort la serpe verde di colore non è non è incastrabile nell'arda di Tolkien non va bene? facciamoci altre ambientazioni Paolo ha fatto un bellissimo video io lo ritengo bellissimo poi è soggettivo con il buon Nicola Rannerini che saluto sul film uscito recentemente di Dungeons & Dragons L'onore dei ladri che anche a me è piaciuto c'è uno dei protagonisti uno del party lo stregone è un mezzelfo di colore ci sono elfi di colore nessuno ha detto niente tutti l'hanno applaudito ma perché? ma perché nell'ambientazione è coerente è plausibile ma perché è una differenza di come viene descritto quel popolo quella razza all'interno delle varie ambientazioni l'ambientazione di Forgotten Reams del film di Dungeons & Dragons un elfo di colore non fa né caldo né freddo va benissimo tutto è il problema è tutto qui sai che quando è uscita quando doveva uscire la serie di Amazon molti hanno detto che basta con Peter Jackson che aveva fatto gli elfi con le orecchie a punta perché è venuto fuori anche questo e poi anche la serie di Amazon ha fatto gli elfi con le orecchie a punta ma con delle orecchie grandi così tra l'altro a Warcraft sì ancora più grandi di quelle di Peter Jackson ma in realtà le orecchie a punta sono perfettamente coerenti perché lo dice Tolkien cioè lo dice a proposito degli Hobbit che dice che hanno delle orecchie elfiche e quindi ha foglia puntita e questo perché perché nelle etimologie ancora una volta le etimologie la filologia Tolkien scrive che la parola orecchio ha la stessa radice di foglia cioè ascoltare il verbo ha la stessa radice di foglia e quindi l'organo preposto all'ascolto ha la forma di una foglia questa è un'altra cosa meravigliosa che solo un linguista poteva notare quindi attenzione Tolkien nel rapporto tra mondo primario e mondo secondario ha preso una cosa reale una cosa che esiste a livello primario nell'ispirazione per esempio degli elfi così come sono stati caratterizzati nel folklore che hanno le orecchie a punta e li ha trasposti all'interno del suo mondo secondario come ha sempre fatto ha preso le etimologie del mondo primario delle lingue reali l'islandese l'anglosassone l'olandese le ha messe all'interno del suo mondo secondario e su queste parole ha costruito le lingue e la costruzione delle razze è la stessa cosa questo è un ambito che a me affascina tantissimo e che purtroppo trovo poco considerato perché alla fine la gente mi viene a dire che la serie televisiva di Amazon migliora la società allora a questo punto io alzo le mani e lascio queste persone in questa convinzione che vabbè ci sta però alla fine nega qualsiasi altro tipo di ragionamento di tipo narrativo di costruzione di mondo di analisi linguistica perché per carità va bene facciamo politica ma alla fine secondo me tutto quello che abbiamo detto questa sera viene un po' viene un po' mancando allora prima di salutare tutti lascio la parola Andrea per le considerazioni finali grazie eh sì va tutto a finire in un piccolo cieco perché se non c'è un confronto paritario se iniziamo con ok le descrizioni fisiche fatte da Tolkien sono secondarie e tutto sommato insignificanti e non influenti della rappresentazione della sua ambientazione non si può far altro che alzare le mani non c'è non c'è un confronto non c'è non ci può essere un dialogo se non c'è il rispetto della base di partenza è quello che purtroppo nella serie è stato anche millantato di averlo questo rispetto che dov'è chi lo sa tra le miriade di polemiche se ci allontaniamo un attimo dagli elfi è sorta anche quella del ma gli aradrim i sudroni le varie tribù i popoli di sudroni chi lo dice che erano di pelle scura cioè chi lo dice che dovrebbero essere rappresentati potrebbero essere rappresentati da attori di etnie sub-sahariane perché non va bene perché dopo dici che sono cattivi e loro non si può fare allora perché dicono no perché se dobbiamo essere filologi tossici super precisi come siete voi allora neanche gli aradrim possono essere di colore non possiamo farli di colore in realtà non è vero guardate a leggervi un saggio che conoscono pochissimi di Tolkien l'ho trovato online si chiama Sigelvoara Land è bello 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 perché Tolkien come al solito fa il filologo indaga dal punto di vista filologico in ambito medioevale dando delle coordinate temporali e parla proprio anche della sua ispirazione per i suoi aradrim per i suoi sudroni che erano gli etiopi quindi una popolazione sub-sahariana quindi persone di di colore nere per dirla chiaramente come erano visti e concepiti dai lontani anglosassoni dalla remota cultura e popolazione anglosassone rispetto dove si trovavano gli etiopi è molto interessante perché fa tutto anche un accostamento con Sigel gioiello in anglosassone che sarà poi all'origine della della radice per Silmaril i gioielli il gioiello per Antonomasia che si va ad accostare a una popolazione di colore è lì uno a partire da queste informazioni filologiche che sono informazioni filologiche quindi finiscono lì iniziano finiscono lì non c'è una narrazione non c'è un romanzo non ci sono delle strutture storiche però si possono prelevare se si hanno i diritti sempre per l'amor del cielo se si hanno i diritti se no basta cambiare i nomi come hanno fatto loro tanto Sauron basta non chiamarlo Annatar però quello è Annatar per dire mettiamogli Albrand siamo a posto non chiamiamoli così chiamiamoli cos'ha e i diritti abbiamo visto come è facile aggirarli e lì uno può immaginarsi qualcosa può concepire qualcosa io da quando ho letto quel saggio penso spesso e volentieri al fatto quanto sarebbe bello un accostamento tra le popolazioni dei sudroni degli Aradrim del sud della terra di mezzo all'interno della storia del mondo di Tolkien accostato in qualche modo con la luce dei Silmaril che ovviamente è la luce di Arendil che si vede nel cielo chissà culturalmente storicamente perché c'è questo piccolo filo che li collega e quindi è questo che mi fa specie che mi ha fatto sempre specie nella serie tv ma dove sono questi grandi appassionati questi grandi esperti perché va bene tutto però se ci arriviamo noi che sì siamo appassionati esperti però grandi io Paolo sì gli attribuiamo il titolo di grande però io no sono il primo che passa cioè se ci si arriva cioè ci arriviamo ci arrivo io perché non ci arrivava il super appassionato il super esperto studioso di Tolkien che hanno tutti quelli che hanno consultato e hanno un fior di quattrini pagato perché è qui ma diamoci delle risposte io credo io credo che ci siano due problemi uno è quello del punto di vista cioè nella battaglia finale vengono descritti gli uomini del sud come neri giganti con la lingua cos'è bianca no con la lingua rossa gli occhi bianchi ma questa cosa non è uno stereotipo razzista questa è una cosa che viene descritta dagli Hobbit che sono presenti alla battaglia e vedono questa cosa qua cioè c'è poco da fare e si ricollega gli studi filologici a quello che dicevi tu come venivano visti dagli anglosassoni queste popolazioni è perfetta è il problema nel punto di vista vogliamo criminalizzare il punto di vista va bene facciamolo ma poi voglio ricordare un'altra cosa l'arad si divide in due parti e c'è un arad che sottomette l'altro perché uno è colonialista e schiavista e l'altro deve subire le cose come sempre è successo nella storia umana ma questo vuol dire che l'arad è cattivo cioè che tutti i sudroni sono cattivi ma no quando Aragorn diventa re perdona tutte queste popolazioni e dice che hanno ceduto alle menzogne del nemico non è che dice siete malvagi dentro evil at heart no no cioè avete sbagliato io vi perdono amnistia per tutti fanno i cattivi ma in quella storia lì del signore degli anelli ma poi nel legendarium vogliamo dire che tutti gli uomini del nord sono buoni i nume no reani sono buoni non credo proprio tutte le società sono stratificate gli elfi tra di loro combinano dei macelli ci sono i fratricidi tra gli elfi cioè parliamone e vogliamo dire che gli elfi sono delle creature divine che tutti noi dobbiamo occupiarli non credo proprio c'è una complessità del racconto c'è una complessità dei singoli popoli non possiamo dire questo buono questo cattivo questo ha il colore di pelle così questo tricolà e allora vuol dire che questo è buono c'è uno stereotipo i nanerottoli i nanerottoli il genocidio esatto i petti d'orfo eliminati dagli elfi e buttati fuori dagli stessi nani tra l'altro leggete nei figli di Urin cosa combinano alla stirpe di Mimmi il nanerottolo personaggio opinabile finché volete però il suo la sua stirpe è stata mazziata da più razze diverse quindi anche quello getta una cosa una luce inquietante su tutta la faccenda ma se oggi giorno vogliamo che i caucasici siano i cattivi andiamo a leggere il leggendario e ne troviamo di caucasici anche bianchi bianchissimi che più bianchi non si può quindi che noi in confronto siamo su droni che è dell'estremo arad cioè non capisco perché se volevano perché pharason non è biondo con gli occhi azzurri e invece come dovrebbe essere cioè ce l'avevano lì più cattivo di pharason non lo so cosa volevano cioè sauron si va bene ha fatto biondo con gli occhi chiari grazie ma proprio perché si ma non capisco su queste domande continueremo a interrogarci nel corso degli anni già lo so che non usciremo mai anche perché fra poco arriverà la seconda stagione e rappresenterà la nostra capitolazione definitiva ecco quindi questi argomenti verranno riproposti in tutte le salse almeno da noi perché noi affrontiamo queste cose in questo modo poi va bene può piacere se annoiano qualcuno ognuno ha i propri interessi noi siamo tolkeniani tossici e ce ne vantiamo ecco quindi ringrazio Andrea di aver partecipato a questa dotta discussione ricorda dove ti possono trovare sui social come seguirti come contattarti facebook gruppo tolkeniani and martiniani anonimi al momento lo so quello poi vedremo magari ci sono altre cose in cattiere bellissimo ce ne parlerai quando sarà un momento quindi grazie a tutti grazie di averci seguito salutiamo Andrea e ci vediamo grazie a voi ciao a tutti